Lo spirito dunque con il quale ci muoviamo è l'esatto opposto di uno spirito punitivo nei confronti delle regioni. Noi ci assumiamo la responsabilità di adottare provvedimenti per aiutare le regioni ad appiattire la curva del contagio ed evitare l'esplodere di nuovi focolai. Sappiamo bene che le misure comportano sacrifici, ma non abbiamo alternative se vogliamo superare questa fase. Questo è il nostro assillo, perché se è vero che sono tantissimi i casi positivi asintomatici, è altrettanto vero che questa volta sono colpite tutte le regioni e quindi è molto più difficile la gestione di questa ondata. Anche sul punto della significativa prevalenza di asintomatici, attenzione a non coltivare pericolose illusioni. Se continua ad alzarsi il numero di contagiati, inevitabilmente aumenta in proporzione la quota di anziani, di soggetti fragili, affetti da uno o più patologie e conseguentemente aumenteranno i ricoveri, i posti occupati in terapia intensiva ed è inevitabile anche che più persone perderanno la vita. Attenzione! Se non fermiamo la curva, il nostro personale sanitario non ce la farà reggere l'onda d'urto. paghiamo il prezzo di aver tenuto per troppi anni una norma che ha bloccato la spesa per il personale sanitario a quella del 2004 meno l'1,4 per cento. Per me questo, quello del personale, è il problema più serio con il quale fare i conti. un respiratore, una mascherina si può comprare. Un medico, un anestesista, un infermiere non si compra al mercato, non si può improvvisare. Ci vogliono anni di formazione e di investimento e dobbiamo avere il coraggio di dire questa verità. A marzo abbiamo concentrato tutte le nostre forze in alcune aree. Oggi dobbiamo fare fronte ad un'epidemia nazionale. È completamente un'altra partita per dimensioni e perché non tutte le sanità regionali hanno la stessa forza e la stessa resilienza. Ecco perché, lo ripeto anche oggi in quest'Aula, non dobbiamo perdere tempo in polemiche inutili e faziose. Dobbiamo solo lavorare insieme, lavorare insieme, lavorare insieme. Così fa un Paese forte, un Paese maturo.